Benvenuti a tutti quanti, noi qua all'Accademia di San Luca siamo molto contenti quando vediamo la sala così gremita di persone amiche, persone che io personalmente non conosco ma siamo ben lieti di aprirla specialmente quando c'è da festeggiare un avvenimento, una cosa, un fatto e questo fatto è la pubblicazione di un libro piuttosto straordinario per la passione che trasuda e per la competenza con cui un nostro amico sodale, un accademico, ha costruito negli anni una collezione che possiamo dirlo con assoluta verità, essere abbastanza straordinaria. Noi dell'Accademia siamo particolarmente contenti di averlo qua anche perché viene di volta in volta investito di domande, di questioni su cose che riguardano la nostra vita accademica, le nostre regole e troviamo sempre, devo dire, attenzione, interesse, intuizioni, cose che ci rendono la vita più semplice. Io non posso aggiungere altro che ringraziarlo, rendergli omaggio e far sì che questa giornata si compie sotto i migliori auspici e ringraziarlo ancora. Lascio la parola agli intervenuti e naturalmente per ultima cosa aggiungo che il Presidente Carlo Lorenzetti ti saluta caldamente e saluta tutti quanti voi. Benvenuti e continuate a farci visita.